Comunque un finale che vi penalizza, è arrivata un'altra sconfitta, è un po' deluso? Deluso dal risultato sì, alla fine però è stata una partita combattuta, abbiamo dato qualche segnale di vita, qualcuno ha dato qualche segnale proprio di assenza netta dalla partita, però per gli altri giocatori voglio sottolineare il fatto che contro una squadra, una formazione molto forte, accreditata, che non è dello stato nostro, oggi qualche segnale in più rispetto alle passate partite insomma c'è stato. Si complica quanto Presidente il discorso salvezza? Ma si complica, diciamo che ad oggi con una giornata in meno restiamo sempre a quel posto utile che è il quarto ultimo che ci permette di salvarci senza play out perché le nostre concorrenti così credo abbiano perso tutte, da Latina sia Stella Azzurra, no Latina ha battuto, Nardò quindi ha perso Nardò, Stella Azzurra e Fabriano ultimo, hanno perso tutte e tre. Ottimista? Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, è chiaro che sono deluso da certe situazioni all'interno del gioco della squadra, però è chiaro che il coach è appena arrivato quindi dovrà veramente mettercela tutta per rimettere un po' la squadra in testa.